Una volta pagata la licenza di farming Ultima Farming License, potrai acquistare il prodotto per il farming di Token Farming Unit. C'è un solo modo per pagarlo, con il token Ultima. Quindi vai al tuo account personale su ultimafarm.com, scorri in fondo alla pagina fino alle licenze e seleziona Ultima Farming Units dal menu. Nella pagina che si apre, seleziona l'unità disponibile per te e clicca sul pulsante Purchase, Acquista. È possibile acquistare un'unità solo con i Token Ultima. Nella finestra che si aprirà, vedrai l'importo di Ultima e l'indirizzo del portafoglio a cui devi trasferire l'importo specificato. Per comodità di utilizzo dell'applicazione mobile del portafoglio, l'indirizzo è disponibile anche sotto forma di codice QR. Per effettuare il pagamento, invia l'importo specificato di Token Ultima al portafoglio indicato nella colonna Indirizzo. Invia l'importo esatto indicato sullo schermo. Una volta completato il pagamento, dovrai attendere la notifica di pagamento. Speriamo che questo tutorial ti chiarisca ogni dubbio sull'acquisto delle unità. In caso di domande puoi sempre rivolgerti al nostro team di assistenza, support-ultimafarm.com Ti auguriamo alti profitti e grandi risultati.